Si fa sempre più improbabile la riapertura degli impianti di risalita dei Prati Itivo anche per questa stagione invernale. Questo perché il gestore Marco Finori non ha ancora riconsegnato gli impianti di Prati Itivo e Prato Selva alla Gran Sasso Teramano, la società in liquidazione pubblico-privata proprietaria delle attrezzature. Una riconsegna dei beni dovuta a seguito della scadenza avvenuta il 9 novembre della proroga della gestione concessa dalla GST a Finori e anche quella della concessione dei terreni da parte dell'ASBUC di Pietracamela. Gli impianti di Prati Itivo rischieranno di essere fermi non solo per questa stagione invernale ma anche per molti anni a venire. Come si stanno mettendo le cose? In maniera molto antipatica perché purtroppo i soggetti partecipanti a questa situazione hanno bloccato con richieste anche al Tribunale di Ascoli Piceno di ipoteche da posizionare sopra ai beni della Gran Sasso Teramano. Questo fa sì che il territorio è sotto sequestro da questi soggetti e quindi secondo me il comparto montano di Prati Itivo e Prato Selva non può sottostare a queste condizioni. In sostanza in attesa che tutto questo si trasferisca adesso dinanzi ai giudici la stazione è diventata ostaggio della burocrazia. Con la mancata riconsegna degli impianti e delle strutture infatti si impedisce di fatto la possibilità di cedere al prezzo già concordato di circa 1,5 milioni di euro all'impresa dei fratelli Persia. Occorre trovare una soluzione, una soluzione immediata perché se no qui noi rischiamo veramente di rimanere bloccati per anni. Io faccio un appello alla politica al fine di trovare una soluzione in tempi brevissimi per far sì che la montagna torni a vivere. Grazie.